Ciao amici di Mr. Gadget, sono finalmente a presentarvi il prodotto più atteso del mercato arriva proprio in queste ore anche da noi in Italia se state vedendo il video in tempo reale parliamo di Galaxy Note 9 per parlare diffusamente di Galaxy Note 9 ci vorrebbero probabilmente 3 o 4 giorni per entrare in tutti i dettagli di un telefono veramente completo questa versione è un miglioramento rispetto al Note 8 con in pratica la soluzione di quelle cosette che l'anno scorso ci avevano lasciati un po' perplessi vediamo la confezione protetta da questa bustina involucro adesso spacchiamo in due la scatola, no, non si ha mai si apre poi in questo modo per trovare una bustina che ovviamente inserisce tutte le istruzioni che tutti noi leggiamo prima di accendere il telefono e poi il Galaxy Note l'adattatore da microSD a USB Type-C e poi ancora l'adattatore da USB normale a Type-C questo è per chi dovesse trasferire i dati da un telefono all'altro poi il cavo e poi ancora le cuffiette che sono state realizzate in collaborazione con AKG di cui portano il brand sappiamo che AKG è un marchio del mondo Arman che ora è parte del gruppo di Samsung ci sono gli adattatori per gli auricolari perché abbiano la massima aderenza al nostro padiglione quindi perché l'ascolto sia perfetto e poi una pinzetta per i peli del naso che all'occorrenza potete utilizzare per cambiare il pennino della S Pen non può mancare ovviamente il caricabatterie con la funzione del turbocharger cioè della carica veloce quella che è permessa insomma dal processore di cui il Note 9 è dotato dopo l'unboxing più lungo del mondo mai un uomo è riuscito a impiegare tanto tempo per spostare dei pezzetti dentro una scatola di telefono ecco il Galaxy Note 9 in tutta la sua per me bellezza allora cambiato esteticamente rispetto al passato è rifinito in modo differente questo taglio diamante posto sui lati con lo schermo curvo è difficile da spiegare però è leggermente meno arrotondato il bordo molto... stavo pensando al confronto tra il Galaxy Note 7 il Galaxy Note 9 è incredibile come sia diminuito lo spessore di questo telefono sulla parte posteriore lo sappiamo c'è una fotocamera doppia con apertura variabile in grado di adattarsi alla luminosità in cui vengono fatti gli scatti e quindi garantire sempre il massimo della qualità sotto il sensore fotografico anche il sensore per le impronte digitali se volete è un po' difficile da individuare perché molto piccolo sulla parte frontale il gigantesco display da 6,4 pollici Samsung ha scelto di mantenere fede alla sua forma del display infinito senza utilizzare il notch e nella parte superiore sono allocati tutti i sensori e poi la capsula per l'audio la parte inferiore con... la parte inferiore con invece l'altoparlante poi l'attacco USB Type-C il microfono e l'attacco per le cuffie da 3,5 mm sempre la parte inferiore poi c'è lo slot per l'apertura e l'estrazione della S Pen che sappiamo è la novità principale di questo Galaxy Note 9 adesso vediamo anche perché il software di Galaxy Note 9 non si scosta molto da quello di Galaxy S9, S9 Plus basta fare l'accesso anche ai menu, un menu qualsiasi del telefono per rendersi conto che essenzialmente le funzionalità sono molto simili combinazione tra iride, sblocco con il volto e sensore delle impronte digitali i dati biometrici possono essere utilizzati alternandoli l'uno all'altro senza alcun tipo di problema ma ovviamente sappiamo che il tema principale viene dalla S Pen e allora vediamo come funziona e come si configura telecomando S Pen vedete la prima opzione che potete utilizzare è per che cosa utilizzare la pressione prolungata di S Pen quando non ci sono applicazioni aperte io ad esempio ho indicato il fatto di aprire la fotocamera e poi potete scegliere le funzioni contestuali quelle cioè che vengono attivate a seconda della situazione in cui vi trovate adesso andiamo a vedere immediatamente poi torniamo al menu come sempre con l'estrazione della penna arriva il menu contestuale si può creare una nota, si può fare una selezione intelligente del display una scrittura sullo schermo, un messaggio live e poi la traduzione di un testo ovviamente c'è un accesso anche a Pen Up e poi vedete in questo modo si gestisce quale tipo di collegamenti si vogliono evidenziare quando si apre la S Pen come vedete potete fare anche il collegamento per l'apertura di una particolare applicazione allora dicevamo estrazione della S Pen premo a lungo il pulsante e vedete si attiva la fotocamera con fotocamera accesa basta premere due volte la S Pen perché cambi dalla fotocamera frontale alla fotocamera posteriore ripeto schiaccio ancora due volte arriva la fotocamera principale e ancora vedete sempre con S Pen puntata io posso prendere sempre la S Pen e con una semplice pressione avete visto è arrivato il comando per lo scatto della fotografia vediamo le altre funzionalità di S Pen è il cuore del telefono è la parte più importante da controllare lo sblocco con il telecomando di S Pen questo è importante se il telefono è lontano e state facendo qualche operazione che volete controllare con S Pen è importante che ci sia un override un superamento del blocco del telefono potete decidere se questo è possibile oppure no e poi l'always on memo ha la possibilità di scrivere con il telefono spento poi andremo a vederlo l'ear view avvicinate la vostra penna ad un contenuto ad esempio un messaggio di posta elettronica e viene mostrata un'anteprima l'inserimento diretto con S Pen potete selezionare un testo e poi scrivere anche immediatamente dopo la vostra selezione usare come puntatore con la S Pen e poi ancora vedete la gestione lo stavamo vedendo prima dei collegamenti della vostra S Pen un'icona mobile questa essenzialmente che potete vedete spostare dove volete o all'occasione anche togliere dal display nel caso vi dovesse dare fastidio una sveglia quindi un avviso acustico se la S Pen non viene rimessa nel telefono e ci si allontana dalla S Pen senza riposizionarla e poi ancora con il risparmio energetico viene risparmiato il rilevamento della S Pen Ancora suono e feedback aptico queste sono selezioni che sono i feedback che avete con l'utilizzo della penna Dicevamo del funzionamento dell'Always On Memo vedete il telefono è bloccato togliendo la penna potete fare in modo di scrivere sul display anche senza bisogno di sbloccare il telefono è una delle cose molto interessanti che avete la possibilità anche di controllare la dimensione ad esempio del tratto con cui scriverete e anche bloccare un contenuto mettere cioè come evidente un contenuto di Always On Memo una funzionalità questa molto comoda forse una delle più comode per quanto riguarda l'utilizzo della S Pen Abbiamo detto più volte che in questi giorni anche sul sito di Mr. Gadget che una delle novità importanti è quella dei super capacitors cosa sono? è una carica statica all'interno del pennino 40 secondi dentro il telefono bastano per garantire 30 minuti di funzionamento del vostro telefono della vostra S Pen S Pen che sappiamo ha delle funzioni sempre molto comode ad esempio quella della selezione intelligente voi potete in qualunque punto fare una selezione del display quindi fare uno screenshot e a questo punto anche scrivere eventualmente sul vostro screenshot se avete qualche commento da andare a distribuire e poi ovviamente avete tutte le opzioni per distribuire tutto quello che avete ritagliato dal vostro display nel giro di pochissimi secondi e poi ancora i messaggi live non so essenzialmente quanto questi messaggi live siano stati un grande successo sul precedente Note però è una funzione che c'è, una funzione carina essenzialmente potete scrivere, adattare, mandare messaggi che poi vengono trasformati in GIF e quindi spediti attraverso le distribuzioni abituali è un giochino secondo me divertente che può essere utilizzato soprattutto per ritagliare le foto per modificare le foto e per renderle più accattivanti prima di condividerle la S Pen ha veramente un sacco di funzionalità tra cui potete anche comandare una presentazione a distanza è una funzionalità che per le attività di lavoro possono essere molto interessanti a proposito di lavoro vi ricordo che una delle novità principali del Galaxy Note 9 è che adesso la modalità DEX non ha più bisogno di un accessorio quindi prendete il telefono, lo collegate ad un cavo che da USB Type-C va ad un monitor quindi con HDMI e siete pronti ad utilizzare la modalità Desktop del Note 9 Prima di salutarci come al solito fotocamera per dare un occhio alle funzionalità non cambiano molto rispetto al passato sono quelle che conosciamo con le diverse modalità di scatto dal panorama, la Pro avete la possibilità del fuoco live l'automatica, il super slow motion che però adesso migliora la possibilità di controllare i punti in cui viene applicato lo slow motion e anche la durata dell'effetto la fotocamera come detto ha questa capacità variabile di apertura e è una fotocamera che si presenta come una delle migliori in assoluto sul mercato avremo modo di fare un focus sulla fotocamera nei prossimi giorni di sicuro se conferma quelle che sono le aspettative che abbiamo e dovremmo fare visto che è lo stesso identico modulo dell'S9 e dell'S9 Plus ci troviamo davanti ad una delle migliori fotocamere del mercato prima di salutarci un ultimo dettaglio quello cioè dell'audio siamo sul sito di RadioNumberOne.it vediamo immediatamente che cosa ci dice dal punto di vista della qualità audio di Samsung Galaxy Note 9 l'esposizione dell'audio viene dalla capsula telefonica e dalla parte inferiore e bisogna dire che la qualità del suono è veramente buona tra i telefoni che ho usato negli ultimi mesi probabilmente se non è il migliore poco ci manca oltre ad esserci un audio molto alto c'è anche una discreta qualità dei bassi che di solito sono completamente assenti su questo genere di dispositivi quindi anche sul fronte dell'audio trovo che il Galaxy Note 9 abbia tutte le carte in regola per piacere a chi deciderà di comprarlo. È difficile dare oggi una valutazione complessiva una vera e propria recensione di un prodotto insomma che arriva sul mercato proprio in questi giorni ci vogliono settimane di utilizzo di solito io vi rimando a almeno un mese dopo l'arrivo di un prodotto per la sua valutazione insomma una batteria migliore una capacità di memoria che può arrivare ad un terabyte tra telefono ed espansione S-Pen con trasmettitore Bluetooth fotocamera con l'arrivo del modulo con l'apertura variabile una batteria che è appunto il 20% più grande con un processore che consuma meno cosa vogliamo dire? display Super AMOLED da 6,4 pollici forse il display più bello del mercato insomma le carte in regola ci sono davvero tutte la domanda che mi faccio come al solito è a voi piace? grazie grazie